Benvenuti, bentrovati tutti quanti, è una giornata, è una serata importante perché siamo arrivati al decimo appuntamento di parola di seminari rivoluzionari, quindi è bello sapere che siamo arrivati fin qui e quindi ricordare anche dove e quando tutto è nato, perché lo spiego anche ai nuovi relatori che comunque hanno avuto modo di seguire questo percorso, che abbiamo messo tutto dentro paroleguerriere.info dove si possono rivedere anche i vecchi seminari. Parole Guerriere nasce nella scorsa legislatura nel luglio del 2017 quando stavamo attraversando un periodo molto importante e impegnativo anche di evoluzione del percorso politico del Movimento 5 Stelle, di continue campagne elettorali che comunque in qualche modo ci chiamavano spesso a semplificare i messaggi e i richiami ai nostri valori. Quindi avevamo proprio l'esigenza e la necessità di arrivare a costruire un contesto di elaborazione del pensiero il più alto possibile, ampio e che parlasse davvero a tutti. Infatti in questo decimo appuntamento c'è anche il professor Bagnai che ringrazio per aver risposto positivamente a questo invito che oggi è un senatore della Lega e che quindi rappresenta, se vogliamo, se vogliamo, a chi ancora non l'avesse capito plasticamente che questo è un contesto che vuole parlare a tutti, che è aperto al confronto con tutti. E testimonianza neanche la presenza oggi di Roberto Fico, presidente della Camera, che in qualche modo sigilla questo obiettivo primario di parole guerriere, che richiama il testo di quel discorso politico ormai storico di Beppe Grillo, in cui tutti ci siamo riconosciuti come guerrieri, guerrieri di pace soprattutto. E a proposito di atteggiamento costruttivo, gentile, di bellezza nel più alto senso del termine, è giusto anche ringraziare intanto tutti voi, perché se siamo arrivati al decimo appuntamento è grazie all'entusiasmo e alla partecipazione attiva di tutti, non solo voi qui presenti e chi ha partecipato, ma anche in rete, perché all'inizio il tutto era nato con un'idea di tre incontri, chi ha partecipato ai primi in sala da Tarella se lo ricorda, poi ne abbiamo fatti diversi altri, sempre qui a Montecitorio e anche fuori, a Milano, a Roma e a Napoli. E quindi sicuramente Roberto Subito ha compreso l'importanza e la necessità di questo progetto quando lo proposi. Devo ringraziare profondamente e forse mai abbastanza il professor Guzzi ed anche mio fratello Diego Antonio, perché è insieme a loro che sono riuscito a concretizzarlo, perché la bella organizzazione che vedete, oltre al supporto indispensabile della Camera e anche grazie a loro e a chi come voi crede in questo. E dunque nei seminari, in questi nostri seminari, abbiamo assolutamente voluto analizzare il contemporaneo, quello che stavamo vivendo e ci siamo sforzati anche di comprendere qual è questa nuova umanità che si profila, si profila in virtù degli accadimenti storici e politici, ma anche in virtù dell'innovazione che ormai fa parte delle nostre vite e che, come abbiamo detto sempre, ha cambiato il nostro modo di sentire, di emozionarci, di relazionarci. Sicuramente vogliamo immaginarci anche delle nuove categorie di pensiero, per superare le ideologie novecentesche, non per dimenticarle o cestinarle, ma per avere quella capacità di evolverci appunto come umanità, come pensiero. Sicuramente questa nuova persona che si profila è all'interno di un'umanità che è fisico, ma è anche telematica e la rete ha dimostrato appunto che si possono ampliare le relazioni, ma dobbiamo sempre tenere a mente l'umanità e la dignità della persona, perché altrimenti non possiamo parlare effettivamente di elevazione culturale e spirituale che deve necessariamente connotare questa nuova umanità che si fonda soprattutto sulla relazione fra le persone. Sappiamo quanto è difficile avere a che fare l'uno con l'altro, ma questo è uno sforzo che se la nuova umanità vuole davvero affrontare le sfide di questi secoli che verranno, deve prima di tutto essere consapevole di questo. E noi siamo stati, anche grazie all'aiuto di tutti i relatori che hanno partecipato, consapevoli del fatto che per creare e dare forza e concretezza ad una rivoluzione, una rivoluzione culturale, una rivoluzione che deve essere necessariamente democratica e quindi non violenta, abbiamo aggiunto anche una rivoluzione gioiosa, quindi allegra, abbiamo sicuramente ormai compreso che per realizzarla questa rivoluzione dobbiamo anche parlare in un modo differente, quindi ideare un nuovo linguaggio, un linguaggio inedito. Le parole guerriere lo furono nel 2013, hanno davvero rotto l'incantesimo di quella politica che si era incancrenita, era autoreferenziale, abbiamo rotto quell'incantesimo proprio con un messaggio che era nuovo, e che noi ancora dobbiamo ulteriormente alimentare e sospingere perché la nostra rivoluzione culturale deve avanzare anche con parole nuove, appunto parole guerriere, ma allo stesso tempo parole di pace, parole di pace anche in un contesto istituzionale complicato come è stato quello fino ad adesso. Noi stiamo vivendo un momento in cui due forze politiche differenti, alternative, che secondo me così devono rimanere, cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle, hanno deciso di sedersi a un tavolo e di trovare, di comprendere quali erano i punti, le idee, i valori che erano condivisibili, in modo da poter progettare appunto un governo assieme. Quindi già la politica, questi palazzi hanno dato in qualche modo, forse a forza, a causa degli eventi, a causa di una legge elettorale che sappiamo che è percorso avuto, però di fatto ha manifestato questa volontà e soprattutto ha concretizzato il valore del dialogo e del dibattito. E allora arriviamo al tema di oggi, sovranità, Italia, Europa, quale unione? Ecco, una domanda aperta che sicuramente lasceremo anche aperta ad ulteriori spunti, perché non abbiamo la pretesa in un'ora e mezza, due, quelle che saranno, di dare una risposta a quale sia effettivamente il futuro dell'Unione Europea, però abbiamo questi relatori autorevoli che ci daranno il loro punto di vista, perché nonostante siano passati ben 61 anni dalla firma del Trattato di Roma, che ha istituito la Comunità Economica Europea, nonostante 17 anni di moneta unica, questo processo di integrazione europea o si è interrotto o si è svilito, sta di fatto che i popoli europei, forse anche non avendo più una forte coscienza della propria identità, difficilmente riescono a capire che nella diversità e nelle differenze con gli altri popoli dell'Unione Europea, può emergere la grandezza e la bellezza di questo progetto europeo e quindi noi stasera cercheremo di capire qual è l'identità culturale di una nuova Europa che ci immaginiamo, perché dobbiamo anche avere consapevolezza, e questo è un contesto dove si può fare, che il concetto di critica costruttiva è necessario se vogliamo far sopravvivere il progetto di integrazione europea e se vogliamo rilanciarlo, mentre invece in questi anni che io oserei definire simili e assimilabili all'oscurantismo, in questi anni non si è mai potuto criticare alcun modello ritenuto di per sé valevole, forte, e appunto solo perché esiste non si poteva, sembrava appunto immodificabile. Invece noi vogliamo far capire e ancora di più lo vogliamo rappresentare, ma soprattutto lo vogliamo testimoniare con le nostre azioni politiche, con le nostre parole, appunto parole guerriere, e dire che dei modelli si possono criticare e criticare in maniera costruttiva per un avanzamento, un rilancio dello stesso. E dunque, ultima cosa che auspico, perché il tema dell'Europa, come penso converrete tutti, è stato fino ad oggi fortemente divisivo, benché trattato nel dibattito pubblico-mediatico, sempre in maniera o diciamo a critica, oppure da tifoseria quasi, quindi c'era chi difende ideologicamente a spada tratta quest'Europa, è un europeista, chi invece la vuole mettere in discussione per migliorarla e per farla avanzare è un anti-europeista. Io non ci sto a queste definizioni, forse neanche tanti di voi. Allora, potrebbe essere un'occasione che secondo me il Movimento 5 Stelle e poi anche le altre forze politiche, un'occasione che non dovrebbe perdere, quella di far diventare il dibattito sull'Europa effettivamente il perno centrale della Terza Repubblica, L'età dei cittadini, come noi speriamo che avvenga e che si concretizzi con l'avvio di questa Terza Repubblica, potrebbe davvero essere la fase storico-politica in cui tutte le energie in campo, tutte le intelligenze collettive, seriamente con lealtà e senza tabù, mettano in discussione dei modelli attuali per migliorarli. Quindi potrebbe essere davvero un'opportunità della Terza Repubblica discutere sul concetto di Europa e noi cominciamo a parlarne qui con i nostri relatori.